Siamo sulla strada che da Case Pesi porta Pietremogolana, una strada che abbiamo dovuto chiudere il 2 di novembre perché il tombone Fincider che sosteneva la strada è marce da sostituire. Verrà sostituito con uno scatolare in cemento, ne approfittiamo per allargare un po' la strada, sarebbe stato meglio riuscire a raddrizzarla ma non ci sono le risorse, anzi devo ringraziare l'autocamionale della Cisa che proprio per salvaguardare i suoi viadotti ci fa questo lavoro gratuitamente. Sono molto dispiaciuto per i disagi che abbiamo creato alla popolazione di Pietremogolana, pensavo ed ero convinto che se riuscisse a finire per il 14 novembre purtroppo non sarà così visto i lavori, anche l'allargamento della strada comporta più lavoro e quindi sicuramente ci vorranno 4-5 giorni in più, quindi andremo non a questo sabato, non al 14 novembre ma al sabato successivo. È comunque una soddisfazione riuscire a fare questo lavoro che sarà definitivo, positivo anche perché la strada in parte viene comunque allargata. Grazie. 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 Grazie.